Circa una settimana fa ricevo una chiamata da un certo Davide Valsecchi E se non lo conoscete ve lo spiego dopo durante il video Mi chiama dicendomi che avrebbe a disposizione il circuito di Adria Una BMW M2 Competition E la possibilità di scannare tutto quanto al giorno La mia risposta non poteva che essere positiva Chiusi la chiamata Pensai a cosa fare con 410 cavalli E chiamai mia nonna Pronto nonna? Ciao amore Come stai? Diciamo andrei sempre male in genocchi ma roba Venerdì hai da fare? No Vorrei portarti in pista con me In pista? Con ti? Sì Ma il fame è morire paura? Eh sì Ma no Ecco mio Non faccio infarto dopo No 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 mi ha paura di fare curve No perché ti senti sei matto? Non sono pronta no adesso a fare una gara del genere Mamma Mamma Venerdì cosa fai? Su casa Vieni in pista con me Ad Adria posso portare un passeggero Su una BMW M2 Ti fanno morire? Sì Ho chiesto alla nonna ma ha paura di morire di infarto Sai che potrei morire come? Posso pensare che un attimo? No Non è che c'ho il piano C Ma con che macchina? BMW M2 Competition Ma tu l'hai mai usata? No E la usi con me la prima volta? Sì Basta te farsi insegnare Sono andato con una 500A Sì ma la 500 non è una 500 BMW che va via col culo Sempre Una volta aver costretto il mio piano B Ovvero mia mamma Non mi è bastato altro che aspettare qualche giorno E ora ci troviamo qui In pista ad Adria Mi trasformo in Ayrton Sin Ed entriamo sulla macchinetta che ci prestano per questa giornata Mi trasformo in Ayrton Sin Salvatore non sono una minchia te lo dico Te schiaccia Ci troviamo in questa giornata soleggiante nell'autodromo di Adria Insieme a un comune Davide Valsecchi Scusate nel mio canale c'è solo che qualità Puoi dire cosa hai fatto nella tua vita Che magari c'è qualcuno che non ti conosce Devi essere il meno umile possibile Pilota d'auto da corsa Livello dubbio Per grazia di vino Sono riuscito a vincere un campionato molto importante Che è quello di GP2 Il campionato prima della Formula 1 E adesso sto di fianco a te Dennis A fare questo gran bel giro di pista Adria Scatinati Apri un po' a terza Madonna come danza Freno Freno Apri Rola Così? Mi sembra che andava bene Naturalmente non è che sono venuto qui a far la spesa Ma sono venuto perché? Perché facciamo un'iniziativa bellissima Il 16-17 aprile Chiamata Vaseck GP Experience Scusa se gli ho dato il mio nome Un'esperienza in pista stile Formula 1 Perciò ci divertiremo Con le Formula 1 quindi? No no con questa macchina BMW M2 Competition Con solo i 410 cavalli Biturbo Biturbo Ad il costo di 100 euro Perciò molto accessibile Super ospite Preparatore atletico di Formula 1 Simulatori per abituarci un po' alla guida E poi giri in pista come hai fatto te Perciò replichiamo un po' l'esperienza oggi Ottimo Ai primi 30 telespettatori Che pagheranno 300 euro al corso Troveranno anche me Insieme a Valsecchi E dopo dividiamo Facciamo 150 e 150 Ah bene Ferma 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 Ok Valsecchi Experience si chiama Valsecchi GP Experience Al posto di stare a casa A menarvi l'uccellino 16-17 aprile Adria Magari mettiamo il link qui sotto in descrizione Che se c'è qualcuno di interessato Basta che clicca E si trova davanti al sito con tutto scritto Dove devo frenare ai 100? No prima Come il 100? Ah super ospite La presentatrice della Formula 1 Su Sky e su TV8 Federico Masolino Eh e non l'hai chiamata perché gnocca no? Minchia che roba sta macchina Veloce vero? Prima del 100 Tipo qua Scusami che io Dopo un po' di paura Ti faccio frenare un po' presto Seconda Minchia è tutta un'altra cosa È incredibile Bravo però è divertente eh Vero bello può migliorarsi No Troppo bello 100 scale fino a seconda Bravo Un po' profondo Adesso Curva di più Apri Madonna come canta La cosa bella però È che non sono venuto qui Per portare a spasso Valsecchi Ma sono venuto qui Per far prendere un infarto A mia madre Sarà lì nei box Poveretta tutta quanta tremolante Adesso andiamo a prenderla Sei pronta? Paura Sei pronta? Hai paura? Comincia pianino Adesso facciamo un po' la spesa La spesa? Sì Andiamo pianino Hai pianino così? E siamo ai 60 all'ora La cosa bella è quando si spinge Che la senti proprio Che si attacca Sai che potrei morire Da un infarto? Eh questo qua è rettilineo Qua è divertente Ma che si cappotta No? Adesso E sentite come si raddrizza? Sì 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 sentite come si raddrizza Una passeggiata no? Sì sì ma non guarda Andar via fa 500 È bello Oddio È bello Fa un po' paura Fa paura Ha solo 350 cavalli in più della tua macchina Una stupidaggine Vuoi provarla? No Ma ti fai morire Ma ti fai morire Già soffro di tachicardia Adesso si è arrivato A 160 battiti al minuto Mamma mia Ma ti fai morire Ma ti fai morire Ma-ma-ma Vedi, vedi, io mamma faccio gli occhi Cosa hai fatto? Ho messo i controlli Ma che curva è questa? Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Madonna mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Quanto ti diverti? Troppo Beh, ti trasmette belle emozioni però Adrenalina Grinta Ferocia Me la compri? Domani L'indomani vi posso assicurare che non mi ha comprato la M2 Competition Né tantomeno è morta di infarto Spero che questo video in compagnia con mia mamma vi sia piaciuto Ringrazio di cuore Davide per l'esperienza Vi ricordo le date del 16 e 17 aprile per la Valsecchi GP Experience Vi lascio il link qui sotto in descrizione Sempre durante questa giornata mi sono portato dietro anche mio padre Ma questo è un altro video E lo vedrete solo se andate a iscrivervi al mio secondo canale Denominato Denis Tarantello Per questo video è tutto Come sempre in descrizione trovate tutti quanti i miei social network La mia attrezzatura e la mia carta d'identità E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao